Ritorno all'appuntamento con Tra le righe consigli di lettura, incontro con l'autore. Il libro che vi presento questa settimana unisce l'essere insegnanti con anche l'essere educatori. Ho il piacere di avere in collegamento Skype con noi una pedagogista, educatrice e docente, Silvia Poletti che ha scritto un libro intitolato Docenti Smart, metodo BAM, basta alzare le mani, diventare edu-formatori e prevenire il bullismo, il libro edito dalla San Paolo. Ciao Silvia, benvenuta. Ciao Paola, grazie di questa opportunità, di questo invito. Allora, il libro è davvero ricco di spunti di riflessione, quindi potremmo cominciare adesso la nostra intervista e finirla questa sera. Però naturalmente i tempi sono sempre molto ristretti. Io mi concentro su tre concetti che nel titolo hanno davvero catturato la mia attenzione, Silvia. Partiamo dai primi due concetti, Docenti Smart ed edu-formatori. Cosa significa essere Docenti Smart e come si diventa edu-formatori? Due cosette proprio. Allora, cosa vuol dire essere Docenti Smart? Ma guarda, mi viene da risponderti con la risposta che da tanti anni mi danno i bambini e anche i ragazzi, perché spesso mi capita dall'infanzia alle scuole superiori di fare questa domanda agli alunni in generale, che è ma qual è il tuo maestro, la tua maestra, il tuo professore preferito? E Paola, la cosa curiosa è che la risposta dai più piccoli ai più grandi è sempre una. Mi dicono quello severo che non urla. E io direi che in questo vorrei riassumere un po' quello che è come i nostri ragazzi descrivono un docente smart. Cioè, severo, cioè una persona che è capace di essere una guida, una guida sicura, stabile, una persona che incarna i valori e la cultura che vuole trasmettere, che non urla, perché una persona che urla lo sappiamo, è una persona che ha perso il controllo, è una persona che non riesce a gestire, è una persona che non ha sicuramente il timone ben saldo in mano. Per cui un docente smart è un docente che ha un fascino, è una persona significativa, a cui i ragazzi possono guardare, cercando di capire come potersi educare a loro volta e a che cosa poter tendere per riuscire a diventare anche loro delle persone altrettanto significative, cercando in loro stesse quali sono le risorse o le risorse da potenziare. Ecco che allora un docente smart è una persona illuminante, in inglese smart non è che vuol dire brillante, quindi è una persona che sa illuminare, ma fa in modo che gli altri risplendano poi di luce propria. Quindi è un edu formatore, cioè una persona che non solo forma, cioè mette dentro, ma è una persona capace poi di fare in modo che le persone che ha di fronte possano rielaborare quanto messo dentro per farlo proprio, per caratterizzarlo e quindi poterlo poi tirare fuori. È un processo difficile, sai, perché sappiamo bene, lo leggiamo, lo sentiamo dai tene giornali, quanto i docenti vivano un momento veramente molto critico e difficile. Prima, se posso continuare dicendo questo, c'era poca differenza fra quello che la società era e insegnava e quello che era e insegnava la scuola. Adesso la frattura e la distanza è molta, quindi c'è una complessità nella società che mette veramente in difficoltà i docenti, anche i migliori, e ce ne sono tanti, non sono pochi, solo che sono messi in seria difficoltà da questa complessità. E il libro nasce per questo, per aiutarli, per dargli degli strumenti molto pratici, perché l'analisi sociale è importante. Poi bisogna trovare che cosa faccio domani in classe per fare in modo che questi ragazzi imparino ad ascoltare, ad autoregolarsi, ad affermarsi nel giusto modo. E quindi ho fatto docenti smart. Sei stata chiarissima e molto esplicativa, Silvia, ma d'altronde è anche un po', come dire, la cifra stilistica del tuo mestiere questo. Il terzo concetto che mi ha colpito è riportato nel sottotitolo del libro, Ci spieghi che cos'è, come attuare il metodo BAM, basta alzare le mani? Sì, se posso ci tengo a raccontare come mi è venuta questa ispirazione, perché è significativo e penso anche un po' curioso. Io ho avuto la possibilità, undici anni fa, di andare un mese e mezzo, quasi due, in Canada, a Montreal per la precisione, in un paesino, Poitclair, dove mio marito doveva lavorare, e quindi era d'estate e siamo andati con tutta la famiglia. La cosa curiosa è stata questa, che abbiamo noleggiato una macchina e eravamo appena arrivati. Tra l'altro la macchina che ci avevano dato era molto bella, quindi avevamo paura nel guidarla per evitare che si potesse incidentare. E mi permetto di prendere questa pagina del libro per far vedere questo incrocio. Non so se si vede bene, posso inquadrarlo così, Paola? Sì, si vede benissimo. Adesso lo prendo anch'io. Ok, eccoci qua, lo faccio inquadrare anch'io dalla regia. In questo incrocio perché è significativo. Come vedete in questo incrocio ci sono quattro macchine, è un incrocio proprio in cui le stradi sono l'una perpendicolare all'altra e ci sono quattro stop. Ecco, un incrocio così in Italia non esiste. Mia figlia ha appena fatto la patente, quindi ho ricontrollato se nel codice stradale c'era come passare da un incrocio con quattro stop. No, Paola, non esiste un incrocio con quattro stop, ma in Canada sì e precisamente l'ho trovato qui, a Point Claire, vicino a Montreal. Tu capisci che da brava italiana sono entrate in crisi perché è impossibile. Chi passa da un incrocio con quattro stop, esattamente quattro stop. È veramente una situazione. Abbiamo accostato e siamo stati lì per venti minuti per paura, per capire, per osservare. Dopo venti minuti abbiamo creduto di aver capito che cosa poteva essere il criterio per passare e poi abbiamo chiesto ed effettivamente avevamo capito, ma ci abbiamo messo venti minuti. Ora non ti tengo venti minuti perché sarebbe troppo. Però è incredibile come da questo incrocio passa chi arriva per primo. Paola, è impossibile in Italia una cosa del genere perché noi abbiamo sempre bisogno di qualcuno o qualcosa che ci dica quando tocca a noi, quando è il nostro momento. In classe abbiamo bisogno di un insegnante che ci dica alzate la mano e vi dico io chi deve parlare. Do io le precedenze, lo stabilisco io. E questo è deresponsabilizzante. Non parlo dell'alzata di mano che serve per interrogare o quella per fare una statistica. A chi piace la pasta asciutta alziamo la mano. Quella va bene. Io parlo di quella che serve quando dobbiamo fare una discussione insieme, in cui i ragazzi devono imparare ad alternare la loro parola e il loro turno di parola ascoltandosi. Non so se hai qualche reminiscenza, qualche ricordo, ma in classe, e tuttora questo avviene, purtroppo aggiungo, quando qualcuno parla ci sono 4-5 mani come minimo che fanno così, tremanti, perché vogliono dire la loro. Ora, non so tu, ma se io sto parlando e ho 4-5 persone che alzano la mano e vogliono, si vede che bramano di dover dire la loro non mi sento ascoltata. E così succede ai docenti, quando fanno una domanda, anche solo parlando di un'esperienza che i ragazzi hanno vissuto o commentando un articolo di giornale. Ecco, i ragazzi devono imparare a parlare, ma anche ad ascoltarsi. E il BAM significa questo, basta alzare le mani, c'è un po' un gioco, un equivoco non inteso come picchiarsi, ma è sottinteso. Cioè, se io imparo a capire quando è il mio momento, riesco a capire come rispettare me stesso e gli altri. E allora da questo incrocio puoi passare, proprio stamattina ero in classe, lo spiegavo dai bambini di prima, per cercare di aiutarli a capire come fare. Ai docenti sembra impossibile, invece i bambini sono bravissimi, basta spiegarli come fare. Ci vogliono due cose per passare da, due abilità, due competenze per passare da questo incrocio. Una è andare piano, se vai veloce non capirai mai, non vedrai mai chi tocca e se tocca a te, e farai un incidente, sicuramente. E noi in Italia andiamo veloci, soprattutto al nord. E due è ascoltarsi con gli occhi, quindi osservare, guardarsi, capire, non essere impulsivi. Questo è sicuramente, sono le due competenze che servono e su cui bisogna puntare per aiutare i bambini ad affermare loro stessi nel giusto modo. Previene il bullismo? Sì che lo previene, ma non solo il bullo, ma previene anche la vittima, perché la vittima e il bullo hanno in comune una cosa, hanno in comune una grande incapacità, l'incapacità di affermare loro stessi nel giusto modo. Il bullo lo fa schiacciando, la vittima lo fa subendo, ma in ogni caso non sono capaci di affermarsi. E una delle cinque A, che sono i cinque obiettivi educativi, ascolto, autovalutazione, autonomia, autoregolazione, ma la quinta A è affermazione, affermazione di te stesso. Devi saperti affermare nel giusto modo, per cui nelle classi dove questo metodo viene applicato, tu vedi bambini anche piccoli, anche di 4-5 anni, quindi dall'infanzia alle medie anche, dove uno si alza e dice scusate ma io non mi sento ascoltato in questo momento. E credimi è bellissimo vedere come sono capaci di affermare proprio loro stessi, senza dover arrabbiarsi, male o subendo quello che gli altri stanno facendo. Spero di essere stata altrettanto chiara e sintetica. Sei stata chiarissima, Silvia. Avrei voluto porti altre domande, ma il tempo della rubrica che dedichiamo ai libri è questo, quindi non posso andare oltre. Però segnalo che ci sono anche delle interessanti attività eduformative che si possono fare in classe con gli alunni, dai test sulla capacità di ascolto ai test gioco sulla percezione. Insomma, è davvero un libro, un testo interessante. Io ti ringrazio per essere stata con noi, anzi vorrei ricordare il titolo del libro edito dalla San Paolo, lo ricordo, Docenti Smart, firmato da Silvia Poletti, pedagogista, educatrice e docente. Ti ringrazio per essere stata con noi e ti strappo una promessa, magari riusciamo a fare un altro collegamento dedicato appunto esclusivamente a questi temi dedicati alla scuola, alla docenza, ai ragazzi, perché credo che ce ne sia veramente bisogno. Grazie. Tutto volentieri, grazie a te. Ciao.